Un turno infrasettimanale resosi necessario dopo le decisioni assunte dal comitato regionale in seguito ai fatti susseguenti alla partita tra Real Siracusa e Sporting Ubea. Come voleva si dimostrare, gli ultimi 90 minuti di gioco per la maggior parte delle ble sono serviti come test, esperimenti utili a far giocare nuove formazioni e tanti giovani. Il risultato per molte ble contava veramente poco, dato che quasi tutte le squadre avevano già centrato i propri obiettivi. In sostanza perdono tutte, ma tanto come detto questo ormai non conta ai fini della classifica finale. Esempio ne è il Ragusa, che già ha festeggiato a tempo debito il passaggio in eccellenza. Gli azzurri ieri si sono regati a Scigli per onorare il calcio e godersi gli ultimi minuti in promozione. Anche l'atletico Scigli è decisamente rilassato perché già ha soddisfatto di quanto ottenuto, ovvero la salvezza per la neopromossa formazione locale. Il tecnico del Ragusa, Filippo Raciti, ha preferito far giocare giovani, che comunque non hanno deluso. Siamo stati, ha affermato Raciti, in formazione largamente rimaneggiata, nel senso che abbiamo deciso di prolungare il periodo di riposo di alcuni componenti del gruppo, affinché ci si possa ricominciare ad allenare con la dovuta lena, in vista della doppia semifinale di Coppa che si terrà nelle prossime settimane. In ogni caso siamo scesi in campo per onorare sino alla conclusione i 90 minuti di gioco e per fare la nostra onesta partita, sapendo di avere di fronte un avversario che, così come noi, ha raggiunto i propri obiettivi e che ci tiene a chiudere la stagione nella maniera migliore. Noi abbiamo anche sperimentato nuove soluzioni in vista delle ultime partite impegnative di questa stagione. Perde anche il Modica, 4-3 fuori casa, contro una Barrese ultima in classifica, ma con tanta voglia di riscatto. Ed è proprio quando non si ha ormai niente da perdere che si dimostra il meglio. È stato questo l'esempio portato dai giovani della Barrese che conquistano così la prima ed unica vittoria del girone di ritorno. Dall'altra parte è un Modica ben disposto in campo e che ha giocato la sua onesta partita, sapendo di aver già centrato e superato l'obiettivo a salvezza già da diverse settimane. Pesante sconvitta invece per i Frigintini contro lo Sporting e Ubea, partita terminata con il risultato di 2-1 e che porta il Frigintini a ricoprire la quart'ultima posizione in classifica. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!